La sostenibilità è l'unico futuro possibile. La sostenibilità è prendersi in carico alle generazioni future, quindi lasciare a chi viene dopo di noi un mondo non molto diverso da quello che abbiamo conosciuto. La sostenibilità è vivere oggi e nel futuro. La sostenibilità è coraggio, tanto coraggio. La sostenibilità è creare valore economico di cui abbiamo bisogno, ma farlo in maniera socialmente e ambientalmente sostenibile, senza produrre effetti negativi per i portatori di interesse. La sostenibilità è condivisione. La sostenibilità è restituire alle generazioni future un ambiente, una biosfera, come quella che hanno potuto vivere i nostri antenati. Grazie a tutti.